L'Aquila, una città sempre dalle mille scoperte da un'infinita storia, i lavori in piazza Chiarino e in centro storico che il Comune sta portando avanti nell'ambito delle riqualificazioni delle varie piazze aquilane grazie ai fondi del PNRR, hanno restituito alla collettività diverse testimonianze della città medievale, testimonianze importanti per rileggere la storia del capoluogo. Nel mese di ottobre scorso sono iniziati in piazza Chiarino gli scavi per i lavori, sono state ritrovate delle sepolture senza corredo e anche reperti di pietre e laterizi provenienti dalla vecchia chiesa dei Santi Giustino e Martino. Ma non solo, è venuta fuori dagli scavi una statua in pietra bianca di 37 centimetri, un guerriero armato che secondo le prime indagini potrebbe essere San Cristoforo. Le conografie infatti lo ritraggono con la barba e con gli lineamenti del viso marcati, la figura indossa un gonnellino a pieghe con una cintura con una spada appesa e il mantello legato al collo. L'ipotesi che possa trattarsi del santo è la più probabile, un santo guerriero romano che tentò di convertire con militoni e fu martirizzato. È l'ipotesi più valida perché San Cristoforo è sempre rappresentato come un gigante che trasporta sulle spalle Gesù Bambino. Il culto per il portatore di Cristo d'altronde fu molto diffuso nel territorio abruzzese con testimonianze anche all'Aquila come il dipinto di Francesco Di Paolo da Montereale, ammirabile tra Corso Vittorio Emanuele e Bialesini. La fresco guarda caso si trova non molto lontano da Piazza Carino dove fino al 1931, anno della sua demolizione, c'era la chiesa dedicata ai Santi Giustino e Martino. Quasi certamente la statuetta rinvenuta qualche settimana fa proviene da questo edificio. Anche le sepolture così come le labili tracce di fondazioni sono da mettere in relazione con la presistente chiesa. Non è la prima volta che i lavori in centro all'Aquila restituiscono testimonianze di valore. Il cantiere in Piazza Carino andrà comunque avanti speritamente senza intoppi.